finalmente c'è grande emozione finalmente ciao chicco come stai bene molto bene appena finito l'allenamento si sono solo le 11 e mezza di un lunedì sera dopo 20 ore di lavoro quindi un allenamento quindi sta bene ascolta facciamo vedere alla famiglia bianco verde che non sei uno che si lamenta e basta ma anche qualche qualità in cui potrebbe sembrare ascolta arrivi da legnano giusto l'anno scorso si un anno solo a legnano esatto e come ti stai trovando in questo mese passato a settimo no bene molto bene devo dire un bel gruppo un bel gruppo come mi avevano detto si sta molto bene sia fuori del campo che in campo quindi le sensazioni sono positive dopo questo primo mese non si vede ora che inizi il campionato questo sicuro sei quasi tra l'altro tu inizierai una giornata dopo esatto visto i tuoi precedenti ma hai già promesso che non lo rifarei mai più no anche perché in 31 anni è la prima volta che che mi capita quindi che culo proprio quando viene a settimo esatto un segnale chiaro ascolta va bene un mese che sei qua sei venuto con che idea io sono venuto con l'idea di vincere poi sarà il campo a dire se abbiamo possiamo raggiungere questo sogno oppure no diciamo che l'obiettivo è migliorarsi rispetto all'anno scorso qui avete fatto un buon anno e quindi questo è l'obiettivo mi intervista già meglio di quella di michael bisley che una settimana faremo nel futuro esatto no no bene bene ascolta domenica andiamo sul campo di garbagnate che è un campo l'anno scorso abbiamo fatto 2 a 0 però quest'anno si resetta è un campo sicuramente estremamente difficile tu non ci sarai sarai lì in tribuna sicuramente ok come vedi la squadra da fuori acciacchi infortuni leader non leader no vabbè vedo bene la cosa che mi piace che ho visto in queste prime settimane che la squadra è ha una mentalità che lavora di lavoro in palestra di lotta su ogni pallone in partita quindi anche se non ci sarò io e probabilmente non ci sarà Tommaso credo che ci faremo valere e abbiamo tutte le possibilità di portarci a casa la prima vittoria la prima giornata dai forza vuoi dare un messaggio alle tue nuovissime tifose ricordiamo che c'è già sposato parecchio impegnato disimpegnabile sicuramente il messaggio è venito a vederci numerosi sicuramente perché quest'anno abbiamo bisogno di tutti dobbiamo fare un grandissimo anno primi mesi lavoreremo un po per conoscerci meglio con me con il nuovo allenatore e poi l'obiettivo è da febbraio da marzo partire veramente arrivare in forma per giocarsi le nostre chance in playoff diciamo che quando a marzo avremo sei punti faremo la rincorsa esatto ripartiremo giocando jolly facendo 50 punti nell'ultime sei giornate esatto dai va bene allora ci vediamo domenica sei e mezza garbagnate alle 18 e trenta garbagnate vi aspetto anch'io sono in tribuna la prima giornata ma dalla seconda in campo vabbè pagherai il biglietto esatto assolutamente ciao picco ciao